Cos'è un trading system? Come si crea e che software servono? Ma soprattutto, quanto è complicato sviluppare una strategia di trading automatica? Ciao ragazzi, io sono Alessandro e vi do il benvenuto in questo video col quale diamo inizio al corso che abbiamo creato per voi per imparare a sviluppare un trading system con la Visual J-Forex la piattaforma messa a disposizione da Dukascopy e che noi utilizziamo per la nostra operatività automatica. Questo è il primo video introduttivo in cui vi spiego cosa andremo a trattare per cui cominciamo subito dopo la sigla. Eccoci qua, anzitutto ci tengo a dirvi che noi non prendiamo nessun tipo di compenso da Dukascopy per questo lavoro. Questi video non hanno carattere promozionale e al momento non c'è nessun tipo di collaborazione tra noi e Dukascopy. Se le cose in futuro cambieranno ve lo faremo sicuramente sapere perché vogliamo mantenere con voi il massimo della trasparenza. Inoltre questa serie di video, sebbene tratti il mondo della finanza dal momento che parleremo di trading system, di operazioni, di strumenti non devono essere interpretati come dei consigli di investimento. Questo perché vogliamo che voi prendiate le vostre decisioni e facciate le vostre operazioni sulla base dei vostri studi e delle vostre analisi. Fate queste due doverose premesse possiamo finalmente cominciare a vedere cosa impareremo. Anzitutto essendo un corso dedicato ai trading system impareremo cos'è un trading system per cui vedremo i vantaggi e gli svantaggi del trading sistematico rispetto al trading discrezionale. Capito cos'è un trading system impareremo ad utilizzare i software che ci servono per svilupparne uno quindi la Visual Jforex e la Jforex, le due piattaforme messe a disposizione da Dukascopy. Capiremo quindi anche chi è Dukascopy in modo da sapere chi sarà il nostro partner durante la nostra operatività. Capito il contesto possiamo finalmente cominciare a mettere le mani sul pc per cui vi seguiremo nel download e nell'installazione dei software nonché nell'apertura di un conto demo con Dukascopy. Ora siamo finalmente pronti ad imparare a utilizzare la Visual Jforex per cui capiremo cos'è il workspace e tutti i vari elementi che ci servono come i blocchi, gli indicatori e le variabili e vedremo come si collegano tra di loro per dare alla strategia il funzionamento che ci serve. Una volta che sappiamo utilizzare la Visual Jforex vedremo qual è la struttura generica di un trading system che può essere utilizzata per la maggior parte dei sistemi dopodiché cominceremo a definire le condizioni di funzionamento di un nostro sistema definendo le condizioni di ingresso, di uscita e di gestione dell'ordine e quindi cominceremo a programmarla con la Visual Jforex. Una volta che il programma sarà pronto lo testeremo per verificare che tutto funzioni come vogliamo dopodiché faremo un backtest sui dati storici per vedere se la nostra strategia in passato sarebbe stata profittevole o meno. Per imparare a fare questo utilizzeremo un terzo software e definiremo dei parametri che ci servono per valutare la nostra strategia. Infine vedremo come lanciare il trading system sulla Jforex per farlo operare con continuità sui mercati finanziari. Ora che siamo giunti al termine vorremmo anche fare qualche video su alcuni trucchetti che noi utilizziamo per sviluppare le nostre strategie e che pensiamo possono essere utili anche voi. Dopodiché vorremmo dedicare qualche video a voi in cui risponderemo alle vostre domande, ai vostri dubbi o approfondiremo qualche argomento su cui magari siete particolarmente interessati. Per cui vi suggerisco sin da subito di scrivere nei commenti sotto le vostre domande e i vostri dubbi in modo che noi possiamo leggerli e cominciare a preparare questi video. Bene ragazzi con questo siamo giunti al termine del primo video. Al momento non abbiamo ancora imparato niente ma non preoccupatevi che dal prossimo le informazioni saranno tante. Inoltre se questo video e l'iniziativa vi piacciono vi chiedo di lasciare un bel like qui sotto così che anche noi possiamo saperlo e continuare con questo corso. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale in modo da essere avvisati non appena uscirà il prossimo video su questo corso o sui vari argomenti che tratteremo. Con questo siamo davvero giunti al termine, io vi ringrazio per essere rimasti fino alla fine e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!